Nell'ultimo anno di pandemia l'utilizzo del web e dei dispositivi elettronici si è diffuso moltissimo anche in quelle fasce di età in cui non è strettamente consigliato, spesso senza la supervisione di adulti che sono stati poi impegnati a organizzare e gestire una modalità quotidiana di vivere la scuola, di vivere lo smart working e quindi ha creato oggettivamente una difficoltà nel guidare i bambini rispetto all'utilizzo di questi dispositivi. Sicuramente le istigazioni al suicidio o atti di autolesionismo vedono alle spalle una certa vulnerabilità, una certa manipolabilità del minore che lo subisce. Quindi è importante che il minore percepisca il mondo degli adulti come un mondo di sostegno, come un porto sicuro a cui approdare ogni volta che la frustrazione o le difficoltà raggiungono un livello difficile da gestire da solo. Sicuramente ci possono essere delle linee guida da seguire o comunque dei suggerimenti utili che gli adulti possono utilizzare per proteggere i bambini dai rischi del web. Prima di tutto mettere dei filtri rispetto ai contenuti a cui i bambini possono accedere. Poi filtrare attraverso il parlare, attraverso il dialogo, le informazioni presenti sul web, aprendo gli occhi su quelli che possono essere i rischi e su quelli che possono essere i vantaggi dell'utilizzo proficuo del web. Allo stesso tempo i bambini vanno in qualche modo tutelati attraverso una quasi psicoeducazione rispetto a quello che è l'utilizzo di questi dispositivi. Una cosa importantissima sarebbe l'istituzione massiccia di quello che è lo psicologo scolastico. Come ordine degli psicologi in Regione Puglia ci stiamo lavorando e anche la precedente consigliatura l'ha fatto e questo è fondamentale per andare a fare prevenzione primaria su temi così scottanti come quelli della dipendenza su internet e dei rischi in generale che il web può andare a provocare.